Hai fatto la cacca in giro? Hai fatto la pipì in giro? Mi hai morsicato tutte le scarpe? Mi hai morsicato tutto? La vogliamo smettere di mordere le cose? Eh? La vogliamo smettere di mordere le cose? Lo prendo per un sì? Lo prendo per un no? Eh? Dopo aver salutato i suoi figli, Leone e Vittoria, Fedez si è ritrovato a trascorrere del tempo con la sua fedele cagnolina, Paloma. Questa nuova fase della giornata ha permesso a Fedez di scoprire la gioiosa e frizzante spontaneità di Paloma, soprattutto considerando la sua giovane età, poiché ancora sporca in giro per casa e attratta a mordichiare tutto ciò che le capita a tiro. Per affrontare queste sfide, Fedez potrebbe prendere in considerazione l'acquisto di un osso da masticare per Paloma, fornendole un'alternativa più adatta e riducendo il rischio di danni in casa. Inoltre, aumentare le uscite all'aperto, con la cagnolina può aiutare a instillare abitudini igieniche migliori. Nonostante la sua razza, potrebbe essere nota per la birbanza. Con amore e pazienza, Paloma può essere educata in modo positivo. In conclusione, Fedez ha affrontato con spirito la sfida di essere un genitore di cane, creando momenti di gioia e comprensione, mentre impara ad addestrare la vivace Paloma. Lo prendo per un sì? Lo prendo per un no? Eh?